Ciao ragazzi siamo in hotel a Roma domani ripartiamo perché devo fare una sorpresa a Niki subito con letto partiamo ma è successo quanti letti ciao cioccolativa prendevi questa e come facevo io a sentire a te che durante la notte quale sono tutte e tre i letti scusa ho capito però la notte tu suoni chi l'ha detto perché vi siete sentiti voi quando suonate di notte vediamo il bagno accendi accendi aspetta ragazzi facciamo vedere il bagno se non metti la carta non si accende la luce in bagno ottimo vedere wow allora noi qui ci siamo già stati piazza buongiorno abbiamo un grosso albero bianco e dice se ha il giocato e il piccolo colore abbiamo una fontana qua poi abbiamo un altro alberello piccolo lì qui che non mi si fa un bel segno adesso è davvero il prossimo il pato è forte che non è forte o il 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 è il Ragazzi, Niki non sa che io sono a Roma, non sa, sa in realtà che devo andare a Milano da uno youtuber molto famoso, non ho detto neanche chi è, non mi ha così, non mi ha inventato. Non è uno sponsor, non è un video sponsor, attenzione, e praticamente gli voglio fare questo scherzo che lo chiamo, gli dico, Niki che stai facendo? Lui mi dice qualcosa, quello che è, gli dico, Niki vuoi sapere dove sono? Lui anche se mi dice no, io lo faccio vedere uguale, gli riprendo la casa e gli dico, Niki ti sembra familiare questo posto? Probabilmente lui appena vede la mia telecamera, che faccio vedere la cosa lì, corre fuori la porta, il nostro po' va bene sia così, si va. Ragazzi, lo stiamo chiamando, non risponde, non risponde, allora gli dobbiamo andare a suonare. ionyico l'还是 aggiornare. Grazie a tutti. Allora, gira la testa, Niki. Dai, fitta. Non stava registrando. E dovevamo? Così. Niki sta guardando metalvano. Dai. Niki ha la tastiera luminosa, Leo, tu no. Perché tu non me la vuoi comprare. Non è vero. No. Non è mica vero. È vero, Niki, costava 5 euro. Ma che 5 euro? È vero che te la stai dando via a poco? Dillo, dillo. Sì, sì. Dai. Guarda la mia classica, senza niente. È proprio noioso quanto è bella invece, no? Questi sono le ragazze. Così la portavo via subito, capito? Io voglio cliccare un numero invece di cancellare le cose. No, non ci asceglie un po'. No, non ci asceglie un po'. Oh, 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 oh. Non ci asceglie un po'. 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 No, ci asceglie un po'. Ok, questo invece è quello che Niki ha regalato a Leo. Facciamo vedere. Eccolo lì. Pensa l'ottolino. Ecco qua. Sono qua i capelli blu. Azzurri. Sì. va tutto montato eccoci aspetta guardate adesso vi faccio vedere un'altra cosa lei si chiama fru fru ciao ciao si ma le batterie ogni quanto bisogna cambiarle lo sai che quasi quasi fru fru ti metto nella miniatura del video nell'anteprima guarda qua c'è altro radicchio polla e un porcellino di india ciao allora ragazzo piaciuta la sorpresa a niki io devi dire niki da come da come ha reagito quando ti ha visto direi che si era contento noi siamo tornati in hotel ragazzi adesso ci mettiamo a letto e poi domattina si riparte per Modena che bello di sera il tuo buongiorno 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 dai castelli romani noi siamo pronti quasi per ripartire purtroppo c'è un altro albero lei cioccolato cioccolato con latte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.